Schiuma bianca e acque e malodoranti nel fiume Aterno, all'altezza tra Onna e Monticchio, dove si trova il ponte. L'acqua a volte è a schiuma bianca, altre volte diventa nera, mandando un odore naseante. Non è la prima volta che i cittadini segnalano il problema e la possibilità della presenza di inquinamento ambientale nel fiume, nella zona della strada provinciale per Monticchio. Gli abitanti di Onna sono molto preoccupati perché le acque vengono utilizzate per irrigare i campi, la grande zona agricola che arriva verso Fossa, dove ci sono molti orti degli agricoltori locali. Gli scarichi sospetti probabilmente escono dai tubi da dove invece dovrebbe uscire l'acqua pulita proveniente dal depuratore, a servizio del nucleo industriale di Bazzano e dal 2009 pure a servizio di alcuni progetti case. Il flusso degli scarichi aumenta in caso di pioggia. Le associazioni Onna, Ollus e la Proloco da tempo chiedono un controllo sulla qualità delle acque al tempo stesso, una verifica sul funzionamento del depuratore che fu contestato dagli abitanti di Onna già vent'anni fa quando fu realizzato. Quando si aprono queste bocche che portano qui sul fiume, l'acqua è terribilmente scura e soprattutto è maleodorante. Spesso succede che subito dopo, quando le bocche si richiudono, sul fiume rimane una patina di schiuma, a volte è biancastra, altre volte è più scura. Non è un fenomeno isolato di alcune volte, è un fenomeno che ultimamente si ripete piuttosto spesso. Voi avete paura di un eventuale inquinamento anche perché quest'acqua poi va ad irrigare i campi, che qui ce ne sono molti? Sì, con quest'acqua si irrigano i campi e se ce la vogliamo dire tutta, con questa schiuma si sono irrigati i campi anche ieri e l'altro ieri, perché il fiume appunto trasportava questa schiuma bianca e i contadini stavano irrigando e allora insaputa si sono ritrovati a questa situazione. L'altro giorno sono venuti anche i carabinieri forestali e si sono incontrati proprio quando il fiume trasportava questa schiuma biancastra. Quindi comunque ci sono delle verifiche in atto, possiamo dire così? Sì, le verifiche in atto ci sono, però poi queste verifiche debbono trovare una conclusione, perché altrimenti il problema rimane insoluto.